Buongiorno signor Buongiorno, ci vedete? Un po' strase? Dicono che ha fatto una brutta fine, eh? A me? Dove è andata a finire lì, eh? E' questa qua! Sempre a bere, a mangiare, a mangiare e a bere! Non so fare altro! Hai permesso? Io non vado a discere Allora? Ti piace? Vuol dare a me il cane? E' arrivato il momento di trovare un bel ragazzo Un'auto del genere fa un figurone con gli amici Brindiamo! Alla salute! Alla salute! Io... Non ti conosco Ma come? Piruccio! 700.000 lire Va bene, 100.000 lire al mese va bene Non ti conosco! Allora? 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 Allora?